Adelphi ci presenta un romanzo bello e denso di Isaac Singer. Isaac Singer è stato premio Nobel per la letteratura nel 1978, è morto nel 1991, era nato nel 1904, quindi è morto abbastanza anziano, suo fratello Israel è morto prima, ma entrambi sono stati scrittori importanti, anche la sorella dire il vero, tutti questi tre fratelli sono scappati dal nazismo dall'est europeo prima che il nazismo inghiottisse anche loro insieme a milioni di altri ebrei dall'est europeo, Singer come i suoi fratelli è scrittore in lingua yiddish, questo impasto di lingua ebraica dell'Europa orientale, questo romanzo si intitola Nemici, una storia d'amore, ed è la traduzione letterale del titolo anche in inglese, sembra un'antinomia, nemici ma poi una storia d'amore, ed è una storia d'amore o d'amori, il protagonista è Herman, un uomo strano, siamo nei primissimi anni del dopoguerra a New York dove arrivano persone che sono scampate per caso, per miracolo alla furia nazista, Herman è uno di quelli dopo una vicissitudine tremenda, è stato nascosto in un fienile per due anni, accudito da una giovane domestica polacca, non ebrea, cristiana, che lo ha curato, lo ha rifocillato, lo ha nascosto, poi adesso lei l'ha raggiunto negli Stati Uniti, lui però prima era già sposato con Tamare, aveva dei bambini tutti inghiottiti dalla persecuzione nazista, poi lui nel frattempo si innamora da un'altra donna, anche lei giunta, ebrea, giunta dopo mille traversie in America e quest'uomo è spaesato, squinternato, apparentemente dalla coscienza un po' ottusa, in qualche modo insensibile ma desideroso di amare e di essere amato, deve sommare questi parecchi amori per sentirsi vivo, c'è una identità a Brandelli, lo sfondo è la New York livida, marginale, della povera gente e di questi ebrei trapiantati dopo una tragedia, con ancora addosso calde le ferite di quello che hanno vissuto, con tatuati alcuni numeri della prigionia nei lager sul braccio e questo disagio, questa incapacità di vivere come prima, queste vite cambiate per sempre, sono impastate in una storia diciamo più che d'amore, d'amori che sono necessarie a questo Herman per non morire in qualche modo, un denso romanzo dovuto alla bravura riconfermata di questo grande scrittore ebraico, Yiddish, trapiantato in America, Isaac Singer, nemici, una storia d'amore.